I miei soliti frammenti, due finalisti, di che cosa? Del festival, naturalmente. Gli altri, alla prossima. Forse. E poi la luna risponderà, sarò gli artisti che spavano, che spavano e lo sai che qui non arriva la pubblica. Consegni il premio Leone d'Oro. Eccolo, eccolo, Leone d'Oro. Beh, devo dire, è una grande gara e un grande festival con grandi artisti.